Ahahahahah! Oh guardate che meraviglia! Il grande Joker batte Batman e ruba la favolosa collezione di gioielli proprio sotto il suo batnaso! Ahahahahah! Oh miei gioiosi e sempre fedeli compagni, che cosa meravigliosa! Ti dispiace inserire una nota triste Joker? Ci porteremo via una collezione di criminali! Dategli addosso! Ahahahahah! 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 Attenzione Batman! Batman! Oh! Ve lo racconto perchè è simpatica la cosa Io niente non sapevo neanche cosa fosse il tuo piatto, il tuo teatro E allora finì lo spettacolo, ero in Russia e finì, cos'era pure, ero con la Magnani, facevamo la lupa Finimmo lo spettacolo e tornamo in Italia E c'era un mio amico, con il quale abbiamo una compagnia che amo molto per Carlo e altri Mi telefono a dire, vieni Rino, andiamo a pranzo insieme Dico, vabbè vengo, volentieri, perché no? Dico, dove? E vieni a via dei villini dove io sto doppiando Che stai facendo? Sto doppiando un film Vieni a via dei villini, che allora c'era lo sentimento, io presi e andai via dei villini Vado via dei villini, se puoi andiamo a pranzo insieme Alla via dei villini e mi siedo nel salottino, c'era una porta a fianco, spessa, grossa, così Mezza perdita E io parlavo forte, tranquillamente, o come parlo adesso, comunque un cavolo Non avevo la preoccupazione di disturbare, di farmi sentire A un certo punto vedo uscire una persona e dice Chi era che parlava? Era una donna Chi era che parlava? Ero io, guarda, te lo scuso, però è un po' forte No, no, ma che fai l'attore? Eh sì, sì, non c'è l'attore Lo faresti un provino con me? Eh, ma è un po' diere, sì Vieni un po' qua Vedi, questo è il leggio Qui c'è il foglio Tu devi vedere queste battute Adesso ti passo il personaggio, che è quello là, guardalo una volta Vedi cosa fa Io guardai cosa faceva questo personaggio Ho letto queste battute Adesso tu devi mettere in bocca quello le parole che leggi lì Che feci questo problema Blake, non capisci che sarà un divertimento per loro Ti risparmierai almeno una dozzina di costole se dici a Jason le cose che sai Come posso fare per convincervi a credere che io non so niente? Parlare? Ma allora non mi resta che fare quello che volete Oh! 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 La bella voce fa parte del mondo dei sogni, cioè il periodo in cui si faceva un certo tipo di cinema che era fantasia pura, fantastico, che toccava i sentimenti, il paro del cinema del passato, aveva le belle voci perché le belle voci conquistavano e colpivano perché erano fuori dalla realtà, cioè tutto quello che esulava dalla realtà aveva successo, oggi come oggi ci sono ancora, perché ci sono ancora delle richieste precise di confronto di queste delle classiche belle voci, ma ritengo che non c'erano più ogni tanto, anzi ti dirò di più che la bella voce è solo bella, ma sono quelle che danno un'ora. La voce bella è passata un po' di moda, cioè la bella voce a me personalmente disturba, se io sento la bella voce camboganale per esempio, mi danno quasi fastidio, trovo invece molto più importanti chi recita bene, chi sa dire, ecco arrivare a scoprire con l'esperienza la verità, cioè l'essere veri non è così facile come sembra, se tu accendi il televisore e vedi questi ragazzi che recitano loro, ma con la loro verità, quella della strada, non arrivano al di là del televisore, la verità è una conquista difficilissima, arrivare a essere veri, è la cosa più difficile che ci sia da parte dell'attore. Solo col tuo biglietto del cinema, solo col tuo biglietto del cinema, solo col tuo biglietto cinema. Esatto, esatto. Io ne faccio 3-4. Sì, dimmi quando vuoi tu, noi registriamo tutto. Tu quando mi dici stop, io mi fermo. Allora, prontissimi, facciamola tutta di seguito. È chiusa la porta? Sì, sì, è chiusa, grazie. Cominci a incidere? Eh, assolutamente, è pronto. Io personalmente vado a ruota libera, poi se funziona funziona, se non funziona ricomincio da capo. Cioè, è anche lì, comunque sì, è comunque uno studio. Anche sulla battuta, io te ne faccio una, poi tu che mi ascolti, dici no, ne faccio un'altra, lo faccio in un'altra modo. Cambio, è l'istinto, non è che mi predispongo a farlo in un certo modo. Io lo faccio, poi tu mi dici di no, io lo cambio. Può andare bene, può andare male, lo rifaccio ancora, finché tu non mi dici va bene. Ecco, quello che mi ha divertito, che mi sono veramente divertito a fare, è stato fatto, inventando questo eroe che era una cosa, che era una cosa fuori dalla realtà. E poi mi inventavo i personaggi, mi divertivo perché, se io non facevo anche testo, mi divertivo farmi dire, vedete un po' assoluto. Ecco, quello è forse la cosa. Invece il personaggio vero che ho amato di più, oltre a Tony Francioso, è stato Steve McQueen. Steve McQueen è stato forse l'attore che io ho amato di più, che mi ha coinvolto emotivamente più di tutti. suolone suolte suolte Prima di fare una scena Roger Mucci metteva mezz'ora, un'ora, mentre un attore italiano con la prima, lui invece lo faceva dieci volte, però era un amore, era straordinario. E mi sono divertito anche lui perché fece la serie del Santo, di Roger Mucci, il famoso Simon Tempere. Poi ci sono nate una marea di piccoli gruppi che hanno fatto delle piccole scuole. Quell'intenzione almeno di fare un'accademia che parte da un presupposto serio, di serie d'età, diventa accademia, non è una scuola di doppiato, devi fare un percorso e devi portare l'allievo ad arrivare a quel punto se c'è vita, deve partire comunque sia dal presupposto della vita, tu devi fingere di essere, non essere, devi fingere di essere, per poter poi essere, devi studiare una vita per arrivare ad essere quello che vuoi dimostrare di essere, che non è facilissimo, è difficilissimo. E l'accademia serve a questo, serve soltanto ad impostare, a darti la preparazione per raggiungere uno scopo ultimo che è quello di essere vero, ma essere vero è una cosa che alcuni ce l'hanno naturalmente, ma non è una cosa sia tanto più difficile che cercare un e stava fantastico. Non mi ricordo un caso, non mi ricordo un caso, non mi ricordo un caso, un altro di mare, cioè ragazzi, mi ricordo il nome di Giovanna Terra e di Limpi. Grazie.